L'importanza che hanno tutti questi centri, ho preso questo qua dell'esercito come anche Codra Bertello e quello fatto a Movi Centro. Noi dobbiamo creare le condizioni perché quando ci saranno i vaccini nel minor tempo possibile tutti possono essere vaccinati, quindi servono molte linee vaccinali perché la popolazione qui è tanta, quindi abbiamo un potenziale di 1500-1800 vaccini al giorno, serve che arrivi davvero la benzina per far girare il motore a tutta velocità e tutto pronto, serve che arrivi nei vaccini.